Beh, mi viene un po' da ridere, scusate, premetto che io non parteggio né per Trump né per l'Harris, presumo, penso che per quel che ci riguarda noi come Italia non possiamo neanche avere un'idea delle dinamiche americane, bisognerebbe vivere là, l'ho già detto, è già fatica a capire le dinamiche nel nostro paese, figuriamoci un'altra realtà così complessa come quella americana. Quello però che è molto significativo è il fatto che durante questa campagna elettorale, come al solito, Trump è stato in tutti i modi, diciamo, calunniato, questa è la realtà, come persona incompetente, come non rispottoso delle minoranze, come aggressivo, come tutta una serie di cose, ma abbiamo visto realtà, e vi ricordo nel precedente intervento che ho fatto citando Federico Rampini, ma anche il nostro concittadino felicissimo, tra l'altro, mi ha appena scritto alle sede della mattina, vi leggo anche alcuni passaggi che mi scrive, mi ha scritto praticamente questa mattina, caro Andrea, sembra proprio che i ripubblicani stiano vincendo, White House, Senato, Camera dei rappresentanti, come avevo predetto. Per il nostro concittadino che vive negli Stati Uniti tantissimi anni, Matteo Ferdinando, è il proprietario e fondatore CEO del Factory Palace Hospital Group, a alcuni ristoranti, sia a Los Angeles che a Las Vegas, anche altri, diciamo, interessi nell'edilizia, e lui è venuto, leggo testualmente, è venuto in America credendo al sogno americano e lavorando duramente, con tanta fortuna, sono riuscito a realizzare una vita decorosa. E lì mi ha scritto che appunto che pensava che i repubblicani avrebbero dichiarato la vittoria, e i motivi per cui gli americani hanno votato in questa maniera il Trump, e vi leggo il messaggio precedente dell'altra mattina alle 6, San Francisco e Los Angeles, la mia città, leggo sempre Matteo Ferdinando, sono distrutte, la California era il motore economico del paese, mentre adesso tutti al mondo sono consapevoli della situazione corrente, sporcizia, criminalità impunita, 170.000 senza tetti pazzi, scatenati, che popolano le strade, economia distrutta ed esodo su altri stati più conservativi. Io non ho nulla contro il Partito Democratico, è un partito assolutamente, l'italiano è un partito assolutamente importante, composto da persone rispettabili, però, ma in questi giorni in cui vediamo che praticamente fanno il tifo perché praticamente vengano più immigrati, abbiamo visto la vicenda dei giudici che danno torto al governo per quanto riguarda il centro di responsabilità in Albania, c'è da capire veramente, e sembra che la situazione in questo caso, perché il problema dell'immigrazione c'è anche negli Stati Uniti, sia preso alla stessa maniera, e cioè uno dei problemi appunto, a mio avviso, preso largamente sotto gamba dai democratici americani, ma anche dal Partito Democratico in Italia, è questo problema dell'immigrazione che non può essere incontrollata, non può essere incontrollata, che danneggia tutti, danneggia gli stessi nuovi arrivi, e quindi è uno dei problemi che ci sono stati, e quindi invece di barcamenarsi su fesserie quali che Trump non è democratico, che si torna al fascismo, tutta una serie di cazzate, scusate, avessero invece operato per problemi concreti, come ci dice il nostro concittadino, e probabilmente la situazione sarebbe dalla destra. Credo che sia un messaggio chiaro e forte anche al Partito Democratico in Italia, che dovrebbe più pensare ai problemi d'Italia e a non a questioni in punta di diritto. Buongiorno, sono Roberto Pincelato, Presidente di Ioda, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabrocker.it www.iodabrocker.it www.iodabrocker.it